Butta via la bilancia che hai in casa. Sì, hai capito bene. Se per caso hai avuto la malsana idea di comprare una bilancia con l'idea di tenere sotto controllo il tuo peso, buttala o se proprio ci tieni, nascondila in cantina. Usare la bilancia come strumento e parametro per monitorare l'andamento dei propri risultati in termini di dimagrimento non serve a nulla. Sarebbe come pretendere di misurare la distanza che separa Milano da Roma ad occhio utilizzando solo la vista. Direi che è abbastanza improbabile che la misurazione possa essere attendibile o comunque sarebbe un valore molto approssimativo. Vedo gente salire sulla bilancia prima di iniziare il proprio allenamento in palestra e ripetere lo stesso gesto una volta terminato l'allenamento. Mi chiedo sempre perché? Forse è perché si tende a pensare che quel chilo o due meno che appaiono sul display della bilancia siano sinonimo di buon allenamento ma soprattutto di dimagrimento. Ma ti ricordo, come ho già avuto occasione di spiegarti in altri miei video, che il grasso non si crea e non si distrugge in un paio d'ore. Ma soprattutto che la differenza di peso rilevata prima e dopo l'allenamento è da imputare solo ed esclusivamente alla perdita di liquidi. Acqua che non c'entra proprio nulla con il grasso. Ti basterà infatti reidratarti nel modo adeguato una volta terminato il tuo allenamento e magicamente il peso tornerà ad essere praticamente identico a quello rilevato prima del tuo allenamento. Non ha nemmeno senso rilevare il proprio peso sulla bilancia con cadenza mensile pensando ad eliminare così il problema del finto dimagrimento dovuto alla perdita di acqua. Perché anche se dopo quattro settimane di duro lavoro in palestra e dieta ferrea dovessi rilevare un calo di peso di tre o anche quattro chili non potresti mai sapere con certezza a cosa imputare questa perdita di peso. Potrebbe essere grasso ma anche muscolo e in parte acqua e la bilancia non è in nessun modo in grado di rilevare questi dati. Rischi solo di illuderti in senso positivo rilevando magari un calo di peso di tre o quattro chili oppure demoralizzarti notando che il peso sulla bilancia dopo un mese è rimasto praticamente identico solo magari un misero chilo in meno ma in questo potreste aver perso grasso e allo stesso tempo grazie all'allenamento aver incrementato la percentuale di massa muscolare risultato meno grasso più muscolo ma peso identico però la qualità del tuo peso corporeo sarebbe nettamente migliore rispetto ad un mese fa. Forse adesso ti starei chiedendo ma allora Davide come posso fare a monitorare in modo corretto l'andamento del mio peso corporeo e quindi dei risultati che sto ottenendo? L'unico modo per sapere con esattezza se stai dimagrendo cioè perdendo massa grassa è quella di analizzare la qualità del tuo peso tramite un'analisi di composizione corporea detta bioimpedenziometria abbinata magari ad altri test come ad esempio la rilevazione delle pliche e delle circonferenze corporee. Solo così avrai modo di capire se la direzione che hai preso con gli allenamenti e la dieta è quella giusta cioè quella che ti porterà a perdere massa grassa e non acqua o muscolo. Anche per oggi è tutto ci sentiamo presto e buon allenamento. Ciao!